Devo dire che ieri il pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan mi ha subito abbastanza ma soprattutto per come si era messa la partita un Milan che nel primo tempo in pochi minuti, in una decena di minuti scarsi era andato sul 2-0 poi nel secondo tempo in Napoli è tornato in campo totalmente cambiato fatto sta che poi in Napoli appunto riesce a pareggiare quindi la partita finisce per 2-2 ma gli spunti sono stati veramente tanti io penso che per quanto riguarda il Milan un turning point sia stato l'infortunio occorso a Calulu quando è entrato Pellegrino all'esordio in campionato appunto e con il Milan devo dire che secondo me questa sostituzione forzata è stata uno dei motivi per i quali il Milan ha avuto un calo perché comunque il gol del 1-0 scusate del 2-1 da parte di Napoli è stato propiziato proprio da un errore di Pellegrino perché nel 1-1 non ha totalmente tenuto il giocatore partenopeo il secondo turning point nel primo tempo sono stati veramente gli errori di Reinders a me dispiace dirlo però soprattutto in due occasioni in primis è mancato il passaggio perché si è avuto in caponire sul destro per il tiro che poi è stato deviato quando fondamentalmente a sua sinistra aveva completamente libero leao e lì ha sbagliato la decisione da prendere in più perché comunque nel finale del primo tempo comunque negli ultimi punti del primo tempo si è mangiato un gol clamoroso davanti a Meret un Milan che qualora fosse andato sul 3-0 lì la partita ecco magari sarebbe si sarebbe chiusa secondo me invece comunque Napoli è rimasto in partita è tornato in partita nel secondo tempo di contro oltre all'errore di Reinders il discorso di questa entrata freddo in campo da parte di Pellegrino è stata insomma controbilanciata da un Napoli che ha giocato molto basso ha fatto tanto giocare in Milan partiva di contropiede sfruttando insomma la velocità soprattutto di Politano e Quaracedia quindi un Napoli che nel primo tempo a me onestamente non è piaciuto nel secondo tempo tutto è cambiato ma secondo me il problema del Milan è stato prettamente psicologico un Giroud che a fine partita dice una volta che abbiamo preso il 2-1 non sapevamo se attaccare o difendere ragazzi è una cosa grave una squadra non sa come deve affrontare un secondo tempo dopo che ha subito il 2-1 qui deve essere anche Pioli a dare una via insomma di una via da seguire ma di contro anche i giocatori devono comunque sapere come poter affrontare tu non puoi dire o meglio non è che Giroud non avrebbe dovuto dire ma in campo non è ammissibile che una squadra non sappia se deve attaccare o deve difendere sì il Napoli è sceso in campo in modo totalmente diverso con un approccio al secondo tempo totalmente diverso ha giocato molto più alto ha giocato un po' in maniera più spallettiana no? più da sarri giocare alto pressing alto sfruttando questa debolezza mentale del Milan e fatto sta che comunque il Napoli può essere portato anche sul sul 2-1 e sul 2-1 e poi sul 2-2 e deve ringraziare il Milan Meret scusate Mignan altrimenti al novantesimo inoltrato si parlava di un 3-2 per il Napoli cioè tu ti sessi fatto rimontare di tre gol è vero che con i secondi ma la storia non si fa ma è un dato di fatto cioè se lì Coraceglia avesse tirato in modo un po' più sporco un po' meno centrale si poteva parlare di di un altro risultato un Magnan che ha giocato veramente male Mignan ieri nel secondo tempo ha rischiato veramente tante volte di prendere le uccellate a destra manca vuoi per un motivo fisico che magari l'infortuna vuoi per mille motivi non lo so ma Mignan ieri ha giocato in modo inverecondo e io giudico anche negativamente la prova di di Randers ma non tanto per per la prestazione in generale intesa come approccia la gara come l'essere stato dentro vivo del gioco ma perché tu hai sbagliato due cose fondamentali o meglio quanto meno due cose che hanno inciso pesantemente sulla partita certo si può dire col seno del poi ma tu non non puoi quando hai un Leao che un Leao che tra l'altro si conferma campione di continuità se tu hai Leao libero a sinistra che è libero che sai lo stile di gioco di Leao scaricala tu Randers davanti avevi 4-5 giocatori perché ti sei incaponito sul destro come dico la Roma te la sentivi calla però ti andrà male si è incaponito contro la difesa del Napoli che giustamente si è chiusa hanno un momento di giocatore andava in pressing c'era qualcun altro che o sui volte volmente la linea di tiro e tu cosa fai? ti incaponisci potevi anche scaricarla sull'esterno di destra non l'hai fatto e puntualmente sei andato al tiro tiro deviato e palla fuori o se non erro no forse era proprio direttamente fuori il pallone ora non non mi ricordo onestamente mi pare fosse stato deviato il tiro direttamente fuori era quello che insomma davanti a Meret porta spalancata la sparacchia ad alta e purtroppo questi errori contano questi errori contano e possono influire negativamente nel bilancio totale di una partita di contro nel Napoli ottimo il secondo tempo inguardabile il primo in Napoli è una squadra così in Napoli è una squadra che deve giocare alta se non gioca alta non sfrutta il potenziale offensivo perché gli attaccanti devono fare molto più campo prima di andare in porta invece Quaraceglia Politano e Raspadori devono giocare gli alti devono essere sostenuti i centrocampisti c'è Zilinski c'è Yelmas che comunque sanno giocare alto agli esterni molto offensivi che devono giocare alti se la squadra si schiaccia in difesa è normale che poi molte cose comunque le va perdere però un'ottima prova di Quaraceglia sta tornando ai suoi grandissimi livelli dell'anno scorso un Raspadori che a me piace sempre di più alla faccia che sia il primo gol in campionato se non erro non di questa stagione ma in generale però comunque Raspadori mi piace tantissimo tantissimo e in ottica futura con un Raspadori così se lo rendi centro del progetto sarà una dichiarazione forte la mia io cederei a mani bassi Ozyman mi terrai soldi e sfrutterei Raspadori creando uno scacchiere attorno a Raspadori cioè Ozyman è bravissimo è un grandissimo attaccante ma non è uno che contribuisce anche al gioco Raspadori secondo me magari ha nei piedi meno gol di Ozyman per uno che ti fa girare benissimo la squadra cioè se tu hai dicendo centrocampisti che hanno un po' più di gol nei piedi Tarnzelinski che insomma i suoi golletti sempre fatti ma comunque se potenzialmente tu hai delle mezziali che hanno quei 10-12 gol potenziali a campionato con un Raspadori che ti apre gli spazi te li sfrutta sa agire da centroavanti atipico il piccolettino che va a combattere ti sa agire da raccordo ti sa agire da 10 se tu hai un Quaraceglia un Politano che i gol nei piedi li hanno se tu hai uno Zelinski e un Elmas che potenzialmente i gol nei piedi li ha un Raspadori può essere veramente tanto tanto importante per questo Napoli del futuro e ripeto io punterei molto su Raspadori in primis perché italiano seconda cosa perché è giovane terza cosa perché deve essere un ragazzo d'oro e non sottolutiamo questa cosa secondo me è un ragazzo d'oro umile che lavora che sputa che sputa che suda 15 camicie in campo Ozyman ha mostrato insomma in questi anni di Napoli un po' la testolina lievemente bacatina quindi ecco io allora valorizzerei il capitale umano che ho quindi un Raspadori puoi cedere lo Zimè a 100 120 miliardi miliardi si dire vecchie lire milioni di euro cedilo ti metti in tasca i soldi ne investi altri 20 25 per un'altra punta che ti possa fare la riserva di Raspadori ma io su Raspadori ci punterei a mani basse a mani basse andando poi a vedere la classifica un timino che ecco qua c'ho 25.000 mouse allora vediamo la classifica il Milan con questo pareggio non agguanta la Juve una Juventus che ha vinto in extremis contro il Verona quindi ora il Milan è terzo a 22 Juve seconda a 23 e Inter primissima a 25 un Inter che insomma viene abbattuto a Roma che a livello di statistiche ha tritato la Roma però in questo video voglio parlare soltanto di Milano e Napoli onestamente e di contro un Napoli che non vincendo non accorce distanze al Milan quindi rimane sempre a meno 4 ora Napoli quarto 18 punti devo dire che sarà una bella bagarre per la Champions League quest'anno e sono curioso di vedere come andrà a finire però ripeto fatto sta che il Milan deve trovare soluzioni e questi buchi mentali il Milan più volte li ha avuti in questi anni e non sempre ti può bastare un Giroud che ti fa doppietta anche perché tu poi hai preso i due gol del Napoli in 10 minuti 11 minuti non può bastare io penso che in alcuni elementi per fare il salto il Milan debba trovare sostituti o meglio debba trovare dei veri titolari in primis è Krunic io continuo a dire che tolto Krunic io ragazzi io Muso lo vedo come mediano punta su Renders punta su Loftus Cic però Krunic non può fare secondo me il titolo nel Milan assolutamente no in più la difesa chi era insomma c'è l'età che ha Kaluru sarà fuori poi non si sa se più terzino più centrale Teo Hernandez altra conferma se non gira la catena di sinistra quindi Hernandez e Leao in Milan vale il 40% in meno ieri poi ha fatto anche Leao Reinders quindi Leao Reinders Teo Hernandez e tutta la catena di sinistra che ha fatto quello che ha fatto insomma non è andata proprio benissimo al Milan comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi